Blocco dei ricoveri ordinari negli ospedali di Andrea Barletta, la direzione generale dell'ASLBAT per via della recrudescenza della pandemia da Covid-19 ha adottato la disposizione nei nosocomi delle due città principali della sesta provincia. Restano garantiti ricoveri in urgenze oncologici, ha dichiarato Alessandro Deledonne, commissario straordinario dell'ASLBAT. La disposizione si rende necessaria alla luce dell'andamento della pandemia. Il presidio ospedaliero di Biceglia intanto è stato già riconvertito e numerosi accessi registrati in pronto soccorso, assieme all'andamento dei dati epidemiologici, ha reso purtroppo necessario il blocco dei ricoveri ordinari. Il vaccino, ribadito delle donne, resta l'unica ver arma contro il Covid. Nell'ultimo bollettino la Puglia ha fatto registrare oltre 7200 casi, di cui 708 nella sesta provincia. Il 34% dei positivi non è malato di Covid ma ricoverato per altre patologie, nonostante il tampone positivo.